Siamo passati i nostri 15-20 minuti e dopodiché andiamo a spazzolare la nostra cebolla. Sempre con una spazzola di nylon. Possiamo pregare il suo e giù senza problemi. Qua bisogna togliere tutto quello che è superfluo che esce dalla soletta. Quel che conta è tutto quello che c'è nella suola. La paraffina di base che abbiamo messo prima e i due colpi di cera praticamente. Prendiamo la nostra facciola incrine. Solo per dare proprio una pulita alle strutture. Le siano belle aperte e quando lo sci è a contatto della neve, a secondo di quanta acqua c'è nella neve, scorra fuori dalla struttura adeguata che abbiamo fatto. Ed eccoci pronti a partire in cara.